Ciao! Oh! Oh, che bello! Ciao! Ci sono vestiti a lei! Che bello! Che bello! Adesso le apriamo, ah! Sono aperte! Guarda, le vuoi dare una Silvia? Una Silvia? Una alla zia? Vai, amore! Una alla zia? Una alla zia! Ma quanto sei bene? Ma grazie! Faccio darti un bacino piccolino! Un bacino piccolino! Un bacino piccolino! Grazie! Amore, grazie! Vieni, amore! Vieni, amore! Ma che principessa! Ma sei meravigliosa Nicole! Ti aspettavo tantissimo! Come stai? Bene! Bene! Sei stupenda! La più bella del mondo! Quella sei tu! Ecco, inizio qua! Vai, vai! È tutto tuo lo studio! Cosa vuoi dire? C'è anche la zia che ti fa fare un sacco di trementure, come dico io, vero? Facciamo le pazze, Nicola. Sì, andate in discoteca, non andate a scuola. Siete andate a scuola? Sì. La zia combina i dei guai che la mamma non deve sapere. Ma c'è anche un fidanzatino. E come si chiama? Lorenzo Blu. Lorenzo Blu? No, no, no. Allora, c'è un po' di confusione qui, vero?